158 studenti o studentesse idonei non beneficiari di posto alloggio per mancanza di posti letto. Il caos sulle borse di studio e l'assegnazione degli alloggi, con le graduatorie già pubblicate da qualche giorno, viene sollevato dal sindacato studentesco LINC. Da LINC la proposta in senato accademico ampliate i posti per evitare nuove situazioni del genere. Attualmente a Lecce ci sono esattamente 158 idonei non beneficiari di posto alloggio, un numero che seppur in diminuzione rispetto agli anni precedenti, sempre grazie al nostro lavoro negli organi, rappresenta una quantità elevata di studenti e studentesse che non vedono garantito il proprio diritto. Il nostro territorio dispone di strutture che realmente possono subire un ampliamento dei posti e per questo LINC Lecce ha chiesto che vi sia un aumento di posti alloggio affinché anche gli studenti attualmente idonei non beneficiari possano avere il diritto di vivere e studiare a Lecce affinché sia garantito loro un reale diritto allo studio. Allo stesso tempo riteniamo sia importante e chiediamo dei servizi e dei trasporti di qualità verso i poli universitari. Allo stesso tempo riteniamo sia garantito di qualità verso i poli universitari.